La Cina celebra il sessantesimo anniversario della Repubblica Popolare. La stampa cinese, nelle scorse settimane, ha parlato delle nuove divise militari ritenute molto sexy. Gli impiegati delle agenzie di viaggio, invece, sostengono che non sarà possibile entrare in Tibet ancora fino alla fine della prossima settimana. Il Comitato Centrale del Partito, durato ben quattro giorni, ha confermato alla vigilia di questo anniversario che il suo compito principale è quello di assicurare al paese una crescita economica sostenuta e veloce. L'ambizione della Cina moderna, infatti, non è solo quella di garantirsi stabilità e ricchezza, ma come la Russia moderna vuole avere un peso maggiore negli organismi internazionali, primo fra tutti il Fondo Monetario, e non è disposta a tollerare nessuna limitazione alla propria integrità territoriale. Le istanze autonomiste del Tibet e della provincia autonoma dell'Oxinjiang, entrambi territori attraversati da violenti scontri etnici, di fatto riguardano metà del suo territorio. Pechino, in tempi di crisi, si rilancia come potenza economica e militare.